Il Montesilvano passa a Falconara in gara 1, valida per il tricolore. Lo fa al termine di un match tiratissimo e contestato a più riprese dalle marchigiane che non avevano mai perso un incontro e reduci dalla recente conquista della Coppa Italia. Squadra quella di Neri priva del fiore all'occhiello Tati colpita da un gravissimo lutto il papà e in gara 2 mancherà anche Nona espulsa con danno all'andata. Il successo delle Gonzaliane nasce proprio dalla superiorità numerica e al ritorno in programma lunedì 14 diretta all'esport alle ore 21. Un'occasione di platino per Amparo e compagni con il Falconara così conciato. Lo scudetto sarà alla portata. Riparlando del match in terra ospite Coppa riporta in vantaggio gli abruzzesi che poi subiscono prima il pareggio poi il sorpasso sempre con Marta. Quindi il rigore altrettanto sommerso da polemiche è trasformato dalla Belli. Il 3 a 2 finale viene vergato con l'uomo in più dalla Sciascio che falirà il tiro libero come la Belli che colpisce anche un palo. Conta poco. L'importante è la vittoria che consente alle Montesilvanesi di avere due risultati su tre a disposizione. Un'opportunità da non perdere assolutamente per compiere l'impresa attesa da un'intera regione evitando peraltro di giocare gara 3 di nuovo a Falconara. Tanti segni del destino. Non si può né si deve sbagliare.